Ciao a tutti amici di youtube, io sono lightmasterwarnier e oggi mio amico si è preso il pacchetto di risveglio delle abissi Rigillato, vedete, sta nella busta E iniziamo l'apertura Non garantiamo che ci siano carte buone Comunque speriamo Ok, fa il trick 1,2 E iniziamo Guerriero dell'abisso Xyz estremo Pesce, cyborg imperale Sireni da abisong Bestia araldica, falco di burner Bestia araldica Aberconway Aberconway Dono eroico La rara sirene, abisturge E Grandarieta Ok Spero che questo video vi sia piaciuto Commentate E iscrivetevi